Sei anni di reclusione sono stati chiesti dal PM Domenico Guarascio per l'ex sindaco di Isola Caporizzuto Carolina Girasole e per il marito Franco Pugliese. Per entrambi l'accusa di corruzione elettorale, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, nell'ambito del processo sull'inchiesta Insula che ha fatto luce sui legami tra l'ex sindaco antimafia e la Cosca Arena. Dalle indagini è emerso che in occasione delle consultazioni elettorali e amministrative del 2008 la Cosca avrebbe assicurato alla Girasole su presunta richiesta esplicita del marito Francesco Pugliese l'appoggio elettorale che per gli inquirenti sarebbe stato determinante per l'elezione. Ora l'ex sindaco antimafia è chiamata a rispondere di presunto favoreggiamento della Cosca nella gestione dei terreni confiscati alla famiglia nel 2007. La Girasole, infatti, in cambio dei voti elettorali della mafia, avrebbe consentito agli Arena di coltivare finocchi sui terreni già confiscati dalla magistratura. L'ex primo cittadino avrebbe sempre, secondo l'accusa, favorito la ditta che si aggiudicò l'appalto indicata nel clan degli Arena. Il PM ha chiesto 14 anni di reclusione per il boss Nicola Arena e per i due figli di lui Pasquale e Massimo. Cinque anni invece sono stati chiesti per Domenico Battigaglia che all'epoca dei fatti era assessore all'agricoltura nella giunta della sindaca Girasole. Chiesti quattro anni anche per il titolare della ditta che vinse l'appalto Antonio De Meco e per gli altri titolari delle ditte che parteciparono alla gara. Si attendono ora le sentenze di primo grado.